Cartoceto andrà alle urne l'8 e il 9 giugno con un solo candidato a primo cittadino, ovvero Enrico Rossi, alla ricerca del terzo mandato consecutivo dopo la vittoria del 2019, quando è stato confermato per la seconda volta sindaco con una maggioranza bulgara di oltre il 70% di preferenze. Questa volta però Rossi, con la lista adesso ancora avanti, dovrà vincere una battaglia contro un nemico invisibile, l'astenzionismo. Per essere eletto dovranno essere soddisfatte due condizioni, deve votare almeno il 40% degli aventi diritto e il 50% delle schede dei votanti deve essere valido. Sindaco, che cosa vuol rispondere a chi incita a non votare? Io credo che sia un gravissimo atto di irresponsabilità per un motivo molto semplice, perché questi stessi cittadini che in questo momento stanno promuovendo, operorando la causa dell'astenzionismo o della scheda bianca, sono coloro i quali per oltre un anno hanno cercato legittimamente, anzi aggiungo anche auspicabilmente, cercato di dare origine ad un altro progetto, cioè ad un'altra lista. Di fronte all'incapacità, di fronte all'impossibilità di creare un altro progetto, oggi richiamano il cittadino a non andare a votare o fare scheda bianca. Per giunta credo che l'aggravante sia quella di voler procrastinare un po' i termini temporali del voto, per poi ripresentarsi dopo l'eventuale periodo di commissariamento. Io mi chiedo, e chiedo quindi a tutta la comunità, con quale tipo e con quale senso di responsabilità si poi presenterebbero dopo il periodo di commissariamento. Io credo che, al di là di quello che è lo scontro politico e la diversità di campo d'appartenenza, primariamente dobbiamo essere assolutamente attenti a quelle che sono le esigenze, le priorità e le necessità manifestate e rappresentate dal territorio. Che cosa succederebbe al comune di Cartoceto se vincesse l'astenzionismo? Esattamente ciò che si aspetta a qualsiasi altro comune che non raggiunge il quorum, ovvero l'arrivo di un commissario prefettizzo, che come ho detto prima garantirà l'ordinario, molto spesso faccio questo esempio, i bambini andranno comunque a scuola, l'erba nei parchi continueremo comunque a tagliarla e le carte d'identità del comune di Cartoceto continueranno sicuramente a farla. Ma qualsiasi tipo di progetto, iniziativa, sia essa piccola, sia essa grande, che sottende una scelta discrezionale da parte dell'amministrazione, è chiaro che resterà lì ferma per almeno un anno. Io credo che il tessuto sociale di Cartoceto non se lo meriti, credo che il tessuto economico, notevolmente dinamico, del comune di Cartoceto, in modo particolare della frazione di Lucrezia, non se lo meriti, diversamente credo, come dicevo prima, che invece il territorio, tutta la comunità di Cartoceto si merita adesso di mettere a frutto quel tipo di investimenti infrastrutturali a cui abbiamo lavorato negli ultimi dieci anni. Il comitato L'Urlo di Cartoceto l'accusa di non aver portato a termine alcune opere idriche che erano in programma. Che cosa vuol rispondere? Dico che così come tutte le amministrazioni sicuramente saremo stati caratterizzati anche a noi da errori, da mancanze, da cose che non abbiamo potuto o che non siamo riusciti a portare a termine, altre seppur non le abbiamo completate ma abbiamo sicuramente gettato le basi per poterlo fare e dunque non ho mai assolutamente detto che questa è un'amministrazione immune da errori o da mancanze, credo che la perfezione non appartenga a questo mondo ma ribadisco esattamente il concetto che dicevo poco fa. Se questo tipo di evidenziazione viene da chi non è riuscito nemmeno a generare, a creare un progetto alternativo a questa amministrazione, mi chiedo anche con quale tipo di responsabilità e aggiungo anche con quali capacità e competenze si sarebbe poi presentato a governare tutto il territorio. In caso di vittoria, sindaco, quali saranno i suoi programmi? Io credo che questo territorio debba essere molto orgoglioso di alcuni investimenti, di grandi investimenti infrastrutturali che sono stati o completati o di cui, come dicevo prima, sono già state gettate le basi sia nella frazione che nel capoluogo cercando anche di promuovere un'idea, un progetto di integrazione tra queste due parti che costituiscono e compongono il nostro territorio e, come ho detto in diverse circostanze, se l'amministrazione fino ad oggi ha badato e riservato molta attenzione ai contenitori, adesso arriva la fase dei contenuti, cioè arriva la fase in cui all'interno e tramite quel tipo di investimento infrastrutturale dobbiamo creare e potenziare servizi proprio a favore di quel tessuto socio-economico completamente e radicalmente evoluto negli ultimi dieci anni. Questa è la scommessa, questo è l'orizzonte che ci aspetta, questa è la sfida che la prossima amministrazione avrà.